L'economia italiana è in crescita ma a velocità diverse, è quanto emerge dall'analisi del Centro Studi Confindustria sull'andamento dei principali settori del Paese. Nel primo trimestre 2024 il PIL italiano è cresciuto dello 0,3%, anche se la popolazione dell'industria e i consumi di beni si sono contratti. Positivo il turismo che si attesta su livelli record, in moderata crescita i servizi e l'export netto. Agiscono negativamente i problemi nei trasporti mondiali di merci, l'energia ancora cara, i tassi ai massimi. La fiducia di famiglie e imprese è in calo. Il prezzo del petrolio dopo aver toccato un picco in aprile ha invertito la rotta a maggio ma su un livello ancora elevato. Le scorte oxe di greggio hanno recuperato in parte nonostante l'offerta dei paesi OPEC resti limitata, segnale di debolezza della domanda mondiale di petrolio. In Italia l'inflazione è rimasta bassa in aprile, il calo dei prezzi energetici si è attenuato. A marzo si registra una frenata dei consumi, in particolare di beni, confermata dalle vendite al dettaglio in calo. Ad aprile è scesa per il secondo mese la fiducia delle famiglie e gli ordini delle imprese che producono beni strumentali hanno continuato il trend di riduzione. Con 54 miliardi di valore aggiunto nel 2023 e 1,4 milioni di occupati, la ristorazione è strategica per le catene del valore ma è anche uno snodo fondamentale di storia, tradizioni e identità territoriale. Di questo si è parlato in occasione della giornata della ristorazione per la cultura dell'ospitalità italiana promossa da Fipe Confcommercio. Dopo il successo dello scorso anno sono oltre 10.000 le attività tra ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie che hanno manifestato la loro adesione, insieme a 85 associazioni e quasi 1.000 ristoranti italiani all'estero. Nel 2023 la spesa delle famiglie per i consumi fuori casa ha raggiunto quota 92 miliardi di euro, recuperando terreno sul consumo domestico. Numeri questi accompagnati da una forte spinta agli investimenti, come dimostra il fatto che nel 2023 circa un imprenditore su due ha investito nel rinnovo del parco attrezzature e nel potenziamento degli strumenti digitali. E per il 2024 le imprese annunciano un piano di investimenti che sfiora i 4 miliardi di euro. La giornata della ristorazione è dedicata tanto alla tradizione alimentare del bel paese quanto alle sfide che attendono il settore della ristorazione, con i necessari cambiamenti dei modelli di business che ridefiniscono la sostenibilità economica delle imprese. La nautica italiana è stata protagonista per la prima volta alla New York Design Week, la manifestazione che trasforma la Grande Mela in un palcoscenico globale per il mondo dell'arte e del design. In questo contesto non poteva mancare la presentazione all'Italian Trade Agency a Madison Avenue del 64esimo Salone Nautico Internazionale di Genova in programma dal 19 al 24 settembre e il lancio della quinta edizione del Design Innovation Award, premio che evidenzia l'eccellenza in chiave di design, ricerca e sostenibilità. Stefano Pagani Isnardi, direttore dell'ufficio studi di Confindustria Nautica. A dicembre, al 31 dicembre abbiamo sfondato i 4 miliardi di euro di esportazione di barche in tutto il mondo come industria nautica italiana e questo non era mai avvenuto, siamo veramente arrivati in alto e la cosa significativa è che gli Stati Uniti siano il primo mercato di esportazione dei nostri prodotti. Il 64esimo Salone Nautico sarà sicuramente una pietra migliare nella nostra storia perché finalmente avremo quasi l'intera area del waterfront che è stata sviluppata dallo studio di Renzo Piano pronta. L'evento organizzato dall'Italian Trade Agency in Miami, ufficio competente settorialmente per il design e la nautica negli Stati Uniti, è stato ancora una volta l'occasione per consolidare la presenza italiana nel settore nautico statunitense. Carlo Angelo Bucchi, direttore ufficio Icce di Miami e Paolo Trevisan, Senior Vice President Design Pininfarina America. L'anno scorso abbiamo concluso con un ennesimo anno record, sotto Covid eravamo arrivati a 49 miliardi di vendite di prodotti autentici italiani, l'anno scorso manca poco a 73 miliardi, siamo cresciuti progressivamente appena usciti da Covid ogni anno doppio digit, la nautica è assolutamente parte di questo dato, così come lo è il design, la nautica cresce addirittura da prima di Covid negli ultimi dieci anni doppio digit ogni anno e con 800 milioni dell'anno scorso i dati del primo trimestre fanno pensare anche di superare il 2024. Uno dei mercati più importanti per la pinifarina per quanto riguarda i non auto progetti, noi lavoriamo sulla nautica, sulla mobility in generale, anche sul product, sull'architettura, ecco l'architettura sta crescendo in una maniera incredibile, quindi è un'architettura con il brand, ma diciamo è un'architettura con la qualità, col pensiero, con questa qualità di vita, quindi molto interessante, siamo molto contenti, l'obiettivo è continuare a crescere qua negli Stati Uniti. Manca poco alla riunione dell'ABC che dovrebbe portare all'agoniato taglio dei tassi, un meno 0,25% se verranno mantenute le promesse. Le rate dei mutui variabili hanno già iniziato a calare un poco, questo nelle ultime settimane, proprio in vista di questa sforbiciata. L'indice di riferimento dei mutui variabili caleranno di circa 20 euro a mese. Nulla cambia invece per chi ha un puto a tasso fisso, ma chi vuole accenderne uno può già contare su un miglioramento delle offerte con una rata più bassa intorno ai 40-50 euro.